Permettetemi adesso di darvi delle indicazioni sul Movimento per la Vita, il promotore di questa manifestazione ed è una bellissima realtà della nostra comunità, del nostro territorio. Opera a Civitavecchia ma non solo da oltre 34 anni e in questi anni l'associazione ha aiutato centinaia di famiglie con i rispettivi bambini, non soltanto a Civitavecchia, offrendo gratuitamente molteplici prestazioni dall'ascolto, servizi medici specialistici, genere di prima necessità. Qui a Civitavecchia la sede del Movimento per tutti coloro che volessero rendersi volontari e comunque contribuire all'impegno costante del Movimento è in via San Francesco di Paolo 1 all'incrocio tra Viene Guido Baccelli e Bian Bencegatti, nella chiesetta che ha ospitato anche altre associazioni in passato. Tra i progetti del Movimento, un progetto bellissimo è quello chiamato Progetto Gemma che negli ultimi anni ha fatto nascere centinaia di bambini, ha aiutato le mamme in difficoltà offrendo aiuti importanti, non solo assistenza, generi di ogni tipo ma ma anche un aiuto concreto, 160 euro mensili per 18 mensilità e grazie appunto a questo contributo molte mamme hanno avuto il coraggio di portare avanti la gravidanza. Non soltanto, due volte a settimana, presto l'associazione, vengono offerti gratuitamente tutti quei generi che normalmente appunto le famiglie hanno bisogno, di cui hanno bisogno per i bambini, l'arte, investiari e quant'altro. Ecco perché all'ingresso della sala avete trovato un piccolo bustolotto, un piccolo raccoglitorio dove potete anche voi offrire il vostro contributo e chi non l'ha fatto può farlo anche uscendo e sarà sicuramente un aiuto prezioso. bene